Allora siamo qui con i due giocatori del Grifone, ottime partite ragazzi, Valerio cominciamo da te, raccontaci il segreto di queste vittorie, com'è andata? Più che altro passarsi la palla, più si gioca passandosi la palla e più il gioco è svelto e quindi si va a fare i gol. Poi sei molto grintoso, comunque qual è il tuo segreto per rubare il pallone e far partire i compagni? Più che altro dico il mio, più che altro io penso sempre a papà che mi segue ovunque in Italia, a Roma, in giro da tutte le parti e quindi penso sempre che se mi vede triste, comunque do sempre il massimo pure per il mister che mi fa sempre giocare tanto tempo. Ottima partita, ottima partita le tue. Passiamo invece al bomber, quattro gol, raccontaci innanzitutto se c'è un segreto per le punizioni. Mia madre sempre mi ha detto gioca con il tuo squadro, no? E così. E quando tiri le punizioni cosa pensi? Dici tiri semplicemente dove va, tiri forte. Invece com'è giocato la squadra per te oggi? Bene. Sei contento della prestazione di squadra? Sì. Ok, invece ragazzi per il torneo, uno di voi due, cosa vi aspettate dalle prossime partite? Io aspetto di fare sempre il massimo, più che altro impegnarci al massimo e poi si vede un risultato. Allora ragazzi, in bocca al lupo e complimenti per oggi. Grazie mille.